Buon pomeriggio dal Tg della Mobilità. 15 km di strade chiuse al traffico dalle 10 alle 19, un percorso ciclopedonale tra Centro, Tiburtina, Pinciano e Prati. Domenica torna Via Libera, l'iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti. Lungo l'itinerario, previsti numerosi eventi. Novità di questa edizione, l'Archeo Grab, una ciclopasseggiata alla scoperta della Piantica e poi bici in rosa, una pedalata per promuovere la lotta contro il cancro al seno e stili di vita salutari. Le altre notizie, sospeso da oggi il servizio della linea integrativa S02 a Nagnina Termini, mentre dal 22 ottobre sarà disattivata anche la S01 Ponte Mammolo Termini. Entrambe i collegamenti erano stati attivati lo scorso 14 settembre a supporto delle linee della metropolitana A e B. La sospensione è stata decisa in considerazione dello scarso utilizzo da parte degli utenti. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg della Mobilità.